Nei nostri studi Katia Villirillo, qui per parlarci chiaramente della brutta vicenda che l'ha colpita nel corso della sua vita, mi riferisco chiaramente all'omicidio del figlio Giuseppe Parretta, proprio di ieri la notizia Katia che è stato riconfermato dal gastolo per l'assassino di tuo figlio. È stato riconfermato in corte d'appello, anche se questa sentenza è stata un po' dura, nel senso che quest'anno noi abbiamo un po' tribolato in tribunale, nel senso che è stato rimesso tutto in gioco, c'è stata richiesta la perizia psichiatrica, perché lui voleva farsi passare come incapace di intendere volere, ma la giustizia ha trionfato, una sentenza che doveva arrivare per rendere memoria e giustizia a Giuseppe. Quanto fa male dover ritornare poi sui tuoi passi, dover rivivere questo dramma, questa perdita tragica che ha segnato la tua vita? Allora, questi sono traumi che ti segnano, che non vanno mai via, ma a volte io mi cielo e penso spesso ai miei ragazzi che rivivono ogni volta l'arrivo di altre sentenze, che non si arriva mai a una fine, dover ripercorrere quelle aule dei tribunali, mi riferisco a Benedetta, che è quella che mi ha accompagnato in questo lungo percorso, questa piccola grande donna che poi ha ripercorso insieme a me tutti i processi che abbiamo affrontato finora. Ieri ci siamo abbracciate forte forte quando è stata emessa la riconferma dell'ergassolo perché temevamo un po', perché in tribunale siamo state attaccate, siamo state umiliate, ci è stato dato delle bugiarde, addirittura ci è stato detto dall'assassinio di mio figlio che Giuseppe non si sapeva come era morto, perché lui ha dimostrato vicinanza alla famiglia perché lui non c'entrava con la morte del ragazzo, quindi era molto dispiaciuto e quindi lui si è dichiarato innocente. Allora questo mi ha fatto via, infatti sono uscita dall'aula due volte e mi ha fatto tanto male ieri, e anche Benedetta perché dico come si fa, no? Tu eri là, hai ucciso davanti a testimonia, dichiararti innocente, non hai avuto nemmeno la forza, il coraggio di essere un uomo, di dire ho sbagliato, chiedo perdono a questa famiglia. E allora io nel mio cuore ho detto, come dire, e giustizia è stata fatta, no? Perché io non sono nessuno per giudicare quest'uomo, quindi spero che lui faccia i conti con Dio pure. Come mentre parlavi, io riflettevo su quanto è assurda questa vicenda, il vicino di casa che poi per motivi futili, gelosie varie, possa arrivare a tanto, possa arrivare a impugnare un'arma per andare a farsi giustizia da solo. Un vicino di casa che, vabbè, non aveva così grandi rapporti con noi, perché noi non avevamo rapporti di vicinato, ecco, era così. Un rapporto così, ogni tanto chiedevamo qualcosa, loro chiedevano qualcosa. Un rapporto di vicinato che è andato a intralciare un po' le sue comuni attività, no? Che erano quelle, quello dello spaccio, perché sappiamo tutti che il Gerace faceva uso e spacciava, no? E quindi noi eravamo d'intralcio, ecco, alla sua attività. E' questo quello che ha generato l'omicidio di mio figlio. E quindi questa sentenza è stata giusta proprio per dire no alla criminalità organizzata, no allo spaccio delle droghe che avvelena la vita dei nostri figli, eh? dei nostri figli e che gli è permesso, ecco, anche fare questo, perché i controlli dovevano essere più serrati, invece non ci sono stati, perché purtroppo bisogna dirlo. Il centro storico, come altre zone periferiche di Crotone, hanno bisogno di più sicurezza, di più controlli, perché sappiamo purtroppo che la droga a Crotone, lo spaccio della droga a Crotone, è molto presente. Ti ritieni una donna coraggiosa per quello che sei riuscita a sopportare e soprattutto per l'aiuto che dai ad altre donne. Quindi una donna che probabilmente in altre vesti aveva bisogno di aiuto, invece ha aperto il cuore ad altre donne e tante le hai tolte dalla strada, le hai strappate a meriti violenti, hai fatto cose molto nobili. Allora, guarda, io non è che mi ritengo una donna coraggiosa, però mi ritengo, insomma, una donna che comunque ha imparato tanto dalla vita, che si è sempre rialzata da sola ed è andata avanti, perché ho avuto una vita molto combattuta, ho avuto tante vicissitudini tremende nella mia vita, quindi io ho imparato che dalla vita ti devi rialzare da solo, perché purtroppo chi ti deve dare una mano non c'è o fa soltanto chiacchiere. Ecco perché il 26 io sarò a Cosenza, ospite della trasmissione TEN, per discutere, per dire la mia sul reddito di libertà, perché tu mi hai chiesto che cosa ha fatto, nonostante il fatto di Giuseppe, nonostante il mio ictus che un po' mi ha rallentato nell'attività di Libre Donne, io ho continuato a fare il mio, non mi sono mai fermato, ho continuato a fare il percorso con tutte le richieste di aiuto che mi sono arrivate, anche da casa, quando eri in ospedale, però io ho anche una bella squadra alle spalle, ho degli ottimi avvocati che rispondono 24 ore su 24, che non si arrendono mai, ho le ragazze delle associazioni che sono sempre disponibili con tutti, veramente una famiglia disposta ad aiutare tutte le persone che hanno bisogno di aiuto, ecco perché dico denunciate, denunciate sempre, non abbiate paura, perché la giustizia esiste, quindi bisogna comunque tentare di denunciare. A proposito di far capire a chi è vittima di violenza, di denunciare, sei riuscito a far rete, che è anche un'altra cosa importante, tante associazioni sparse per l'Italia ti hanno dato credito, ti hanno dato ascolto, ti hanno riconosciuto forse come una bandiera per portare questo esempio a tante donne vittime di violenza. Sì, sì, io mi sono fatta strada a livello nazionale, a livello internazionale, io dappertutto ho associazioni, presidenti in cui noi ci iscriviamo, ci invitiamo, ci aggiorniamo, critichiamo, facciamo rete sulle leggi, perché è questo che bisogna fare, se devi dare aiuto le cose le devi sapere, ti devi aggiornare, perché altrimenti come fai a dare un contributo a chi sta dall'altra parte? Tante volte le leggi vengono fatte, ma non essendo sul territorio, non avendo proprio esperienza sulla strada, su quello che succede praticamente, a volte le leggi rimangono a metà. Allora bisogna fare questo, bisogna dare ognuno il proprio contributo facendo delle reti, cosa che non succede spesso in Calabria, però la Calabria invece è indietro rispetto al resto dell'Italia, un po' perché siamo indietro, un po' perché la mentalità dei presidenti, siamo un po' invidiosi l'una dell'altra, invece in Alt'Italia, a partire dalla Puglia in poi, noi siamo tutti sorelle, ecco, tutti i presidenti, ci riuniamo, ci vediamo, ci sosteniamo, invece qui la situazione è proprio, anche nel nostro territorio, no? Sembra che i presidenti hanno paura. È proprio questa di paura, hai sentore, sicuramente, c'è di tante donne che sono vittime di violenza, però te lo dicono forse in forma sommessa, hanno paura poi di uscire alla scoperta, di denunciare, ce ne sono tante, penso. Allora, guarda, noi stiamo lavorando proprio in queste settimane a tantissimi altri casi nuovi, e ti posso dire che da noi vengono a chiedere proprio aiuto, a dire proprio chiaramente tutto quanto, a dire aiutateci perché nessuno finora ci ha dato una mano oppure si sono rivolte ad altre strutture che poi non sono riuscite concretamente a dargli una mano. Perché? Perché noi accogliamo, anche non avendo una struttura, una persona a 360 gradi. Noi rispondiamo sempre al telefono, l'assistiamo continuamente, quindi noi non la lasciamo per mano. La prendiamo per mano e non lasciamo mai la sua mano. Quindi questa è una cosa che è un'empatia che crea unione con la vittima, che dà forza, che dà coraggio. E poi tu sai benissimo che io sono una donna rinata, che io vengo dalla strada, sono una vittima di violenza che è risalita da sole e quindi questo dà garanzia perché si riconosce negli occhi di chi ha sofferto la stessa cosa e quindi questo è un input per dire denunciate, per dire andate avanti, non fermatevi, continuate a cercare la strada giusta, che i centri antiviolenza funzionano, che le strutture private di accoglienza vanno bene solo per alcuni casi, ma vanno bene. ma continuate a denunciare. Non solo donne, mi parlavi a microfono spento anche dell'esperienza di un ragazzo che è da voi in cerca di aiuto. Sì, noi abbiamo avuto tanti giovani, ti sto parlando della violenza di genere, di scelte diverse, scelte sessuali diverse. Ne abbiamo avuto tanti anche nella nostra provincia, di ragazzi che si sono trovati poi a subire violenza all'interno delle proprie famiglie. Ne abbiamo aiutati tanti e qui ti posso dire che in questo i servizi sociali della nostra provincia sono molto indietro e sono molto indietro e anche loro vivono questo tabù perché io mi sono trovata ad affrontare queste problematiche con questi ragazzi e con questi servizi sociali che non sapevano cosa fare e che addirittura insabbiavano con le famiglie. E questo è gravissimo. Sì, noi abbiamo accolto uno dei tanti ragazzi in questi giorni che aveva lanciato un appello e noi l'abbiamo raccolto, l'abbiamo aiutato, lo stiamo indirizzando. Abbiamo anche chiesto aiuto alla Caritas in alcune cose che ha risposto in maniera diligente perché la Caritas funziona, è un ottimo istituto. La Caritas c'è se tu vai, Dorrino a Lepera è una grandissima persona. Quindi facciamo rete, questo è il messaggio che voglio dare. Uniamoci e invece soprattutto a Crotone, commissioni di opportunità da una parte, servizi sociali da una parte, centro Noemi da una parte, Vilerillo da una parte. E non va bene così. Ci sono anche queste divisioni che mentre nel resto dell'Italia ti accolgono, ti cercano, ti aprono le porte. Forse qui ci sono le gelosie dell'orticello, i problemi con le istituzioni penso che siano in via di risoluzione. Guarda, io per molti sono antipatica, sono antipatica perché dico le cose come stanno, però il bello della Vilerillo e delle libere donne è il fatto che noi siamo liberi mentalmente, noi diciamo sempre quello che pensiamo e ci mettiamo a confronto. Questo non è un sinonimo di debolezza, invece a Crotone viene visto come un sinonimo di debolezza. Questa invece è una marcia in più perché il mettersi in discussione, aver coraggio di dire le cose, di confrontarsi è un modo per crescere. Mi dispiace molto che questo non viene capito da tutti, però ognuno va per la loro strada, quindi non è un problema. L'importante è poi riuscire ad arrivare a grandi obiettivi e noi di strada ne stiamo facendo, perché noi riusciamo a dare tanto aiuto. E questo è il nostro più grande contributo che ci viene dato anche, perché il vedere la riuscita di donne vittime di violenza, io ho partecipato, guarda, questa cosa te la posso dire, in questi giorni a uno seminario online con professori universitari e con ragazzi in aula online. Una persona di Cosenza, un presidente di Cosenza, mi ha fatto delle domande dopo aver dato la mia testimonianza. Mi ha detto, guarda, ma io ti conoscevo, per sentito dire, oggi ho il piacere di conoscerti, e volevo chiederti se a te è capitato che dopo due anni una donna vittima di violenza, dopo aver finito il suo percorso, se ne va. Io ho risposto no, Piero. No, perché da noi, tutte le donne che sono venute a chiedere aiuto, hanno tutti finito il percorso, sono tutte donne che stanno vicino all'associazione, però sono tutte donne rinate, che si sono sposate, si sono fatti altri rapporti, che lavorano, donne che continuano con il colloquio psicologico, sono donne che oggi tu le vedi e dici, ma questa era una donna vittima. Sì, sono donne che ce l'hanno fatta, perché noi facciamo tra di noi mutuo aiuto, lo stare insieme, non allontanare la vittima, trattarla come una vittima. La persona che ti viene a chiedere aiuto deve diventare la famiglia per essere aiutata, perché tu devi dare l'umanità prima di tutto, questa persona deve entrare dentro per raccontarci le tue cose. Bene, con questa testimonianza, in occasione della conferma dell'ergastolo per l'assassino del figlio di Katia Villirillo, abbiamo voluto fare un pochino uno spaccato di quello che può essere il sociale, il sociale a Crotone, il sociale nel resto dell'Italia. Ti ringrazio per essere venuta nei nostri studi. Grazie a te.